Siamo con il presidente dell'Associazione Vita e Solidarietà, Ottavio Antenucci. Signor Ottavio, di cosa si occupa la vostra associazione? La nostra associazione, che è nata dal 2001, si interessa di adozione a distanza di bambini poveri, sia in Sri Lanka sia in Congo. E oltre a questo, logicamente, raccoglie dei fondi per la realizzazione di progetti che facciamo direttamente sui luoghi di intervento, che sarebbero sempre lo Sri Lanka e il Congo. In Sri Lanka, dal 2001, diciamo che attualmente abbiamo poco meno di 200 bambini adottati a distanza. In Congo ne abbiamo una ottantina. Per quanto riguarda i progetti, in Sri Lanka abbiamo realizzato diversi asili, sono 4 asili, sono 5 pozzi per l'acqua e abbiamo un doposcuola per i bambini che devono recuperare delle materie dove sono deficitari. Invece in Congo abbiamo fatto forse i progetti più grandi, tra cui il dispensario per la gente povera proprio nella capitale Kinshasa. A ottobre del 2015 è partito un nuovo progetto che riguarda la coltivazione di un campo che abbiamo preso in concessione. Vediamo che sono molte le operazioni che avete effettuato, ma c'è ancora molto da fare. Come possono anche le altre persone entrare a far parte della vostra associazione? La prima cosa per aiutare, non tanto all'associazione, ma per dare la possibilità all'associazione di aiutare queste persone, la prima cosa è l'adozione a distanza. Come dicevo prima, l'adozione a distanza di un bambino sia del Congo sia dello Sri Lanka vale 240 euro all'anno. Basta contattarci e chiedere l'adozione e noi a breve tempo assegniamo un bambino con la fotografia, con tutti i dati di questo bambino e quindi i dati della famiglia di cui beneficerà di questo aiuto. Si può dare il proprio contributo solamente attraverso l'adozione a distanza o comunque anche con un contributo più piccolo per chi vuole aiutare ma non può permettersi 240 euro all'anno? Sicuramente ci sta da dire che ci stanno tantissime, meno male, ci stanno tante persone in tutta Italia, anche perché questa è una precisazione importante da fare, che i nostri sostenitori sono di tutta Italia, anzi ci sta forse qualcuno fuori dall'Italia che ci aiuta e sono tutti contributi volontari, anche minimi, anche veramente che può sembrare una cosa irrisoria, 5, 10, 20 euro. Sì, sono offerte che ci permettono, mettendoli insieme, di poter portare avanti questi progetti. Basta dire che noi riusciamo a contribuire al mantenimento dell'ospedale che abbiamo in Congo, che abbiamo fatto nel 2012, con tutti i contributi di questi sostenitori e ci sta da dire una cosa importante, che tutte queste offerte alla fine valgono 80-90 mila euro all'anno, che è una bella cifra. Tanti piccoli contributi riescono a fare molto. Sì, sì, sicuramente, logicamente in questi 80-90 mila euro ci stanno sia il contributo che un'altra forma di aiuto per noi è il 5 per mille, logicamente. La nostra associazione prende normalmente da 8 a 10 mila euro l'anno come 5 per mille. Un'altra fonte di finanziamento nostro è il calendario che realizziamo con le scuole di Vasto di San Salvo e altri paesi dei dintorni. E poi tante attività che mettiamo in atto durante l'anno. Logicamente ci sono anche delle attività un po' più particolari di gente, di nostri sostenitori, che fanno delle iniziative personali. Come ad esempio nel mese di luglio c'è da parte della gelateria I Trescalini, che ormai da 4 anni dedica il ricavato di una giornata alla nostra associazione. E che non è poco, sinceramente, è un bel poco. Sor Bibiana, responsabile delle figlie di Nostra Signora e del Sacro Cuore del Congo, in Kinshasa. Sor Bibiana, volevo chiederle, durante il convegno di prima mi ha colpito, quando è stato detto che i bambini, siccome nel Congo si crede nelle stregonerie, insomma si crede a queste cose, è stato detto che alcuni bambini vengono presi di mira da questi stregoni e le loro famiglie... Li mandano via, li mandano via e poi stanno in mese alla strada. Vengono abbandonati dalle famiglie e vivono poi così, per strada. E ne sono pure, immagino, parecchi. Sono tanti, sono tanti bambini che stanno in mese alla strada, chi lo cura? Vi vengono vicino alla macchina, chiedono un aiuto, vengono a toccare la porta vostra per chiedere aiuto. Allora ogni tanto veniamo in aiuto a questi bambini, ma sono tanti. Non è che quello che diamo, è una soddisfazione minima, ma non è tanto. Ci sono tante, tante difficoltà in giro e poi, soprattutto questi bambini, sono i genitori e anche le famiglie che li fanno stregoni e li cacciano via. E cacciandole via non possono trovare un posto da dormire, da stare e vanno di qua e di là. E' una cosa vera. Sono piccoli questi bambini? Posso dire che non ne sono tanti piccoli, si buttano anche quelli da due anni. Anche i primi nati così, i bambini di un giorno buttano anche via, due anni, tre anni, quattro, cinque, dipende dall'età, di tutto. Non è che sono più bambini, ma sono proprio di tutta l'età. Mentre nella vostra comunità, grazie all'aiuto dell'associazione, riuscite a mandare a scuola dei bambini, a distruire dei bambini, ad aiutare delle famiglie? Sì, quelle bambine che noi tramite l'associazione aiutiamo, sono dei bambini che stanno proprio in famiglia, ma le famiglie in difficoltà. Può darsi che un papà non può stare, ma il bambino sta con la mamma. E quella mamma non ha un figlio, può avere tre, quattro, e noi cerchiamo sempre quelle famiglie che stanno proprio nel bisogno, e noi diamo questo aiuto e li mandiamo a studiare, e dobbiamo verificare anche, perché i soldi che vengono dall'Italia è proprio destinato per dare una vita, la speranza. Allora noi non possiamo accettare che questi bambini non vengano trattati male. Seguiamo e andiamo proprio a verificare che vanno a scuola. E vanno proprio a scuola. Una cosa che ci ha colpito prima, ha colpito me, penso che abbia colpito un po' tutti. Quando lei ci raccontava della sua storia personale, che poi penso rispecchi la storia della maggior parte delle persone in Congo, è quasi tradizione per un marito avere più mogli, più donne. Lei ci diceva che ha 54 sorelle e fratelli. Aveva, il mio papà quando era vivo, si contava questo 54, 52, poi dopo, quando è morto, la vita ci ha portato a una separazione troppo brutta, che gli altri sono morti e siamo vive. Quelli che stiamo ancora vive, posso dire, in realtà, sono 12 femminucce e poi 12 o 13 maschile. Potevo proprio scrivere il nome e poi darvi il nome, ma mi è successo che ho potuto dare una risposta, sì. Ma ci vogliamo tanto bene. Una cosa vera che tra di noi c'è proprio una familiarità, una solidarietà e non c'è il fatto del papà e mamma, no. Noi diciamo così. Il papà è l'unico, le mamme sono diverse. E come siamo i figli del papà, ci vogliamo tanto bene. Ecco, volevo chiedere proprio una cosa in merito a questo. Ma non è in contrasto con la religione, con la nostra religione? La religione cattolica sicuramente non accetta, ma dentro una cultura, dentro una tradizione, che possiamo fare? L'uomo rimane l'uomo. E l'uomo ha la sua libertà. E con la libertà, che possiamo fare? Se si converte per fare quello che la religione ti chiede, lo fa. Ma se l'uomo rimane l'uomo, nella sua tradizione, va davanti con la sua mentalità e rimane. La cosa più importante è la famiglia. È la famiglia, la famiglia. Ci vuole la famiglia perché... Che ci frega la mamma? La mamma è venuta per sposare con il mio papà. E poi dopo rimane lì. Io sono la figlia del mio papà.